Le marche tornano gialle ma gli umori di baristi e ristoratori restano neri, il continuo susseguirsi e alternarsi di aperture e chiusure sta mettendo a dura prova il lavoro di tutti gli operatori del settore. Nessuno di loro è disposto a gettare la spugna se da un lato ristoratori e baristi pesaresi da ieri hanno ripreso a lavorare a pieno ritmo, dopo il passaggio delle marche in zona gialla, dall'altro in tanti iniziano ad essere stanchi, stremati da mesi di chiusure con i ristori che arrivano a singhiozzi e nemmeno a tutti. Alcuni di loro stanno già pensando di aderire all'appuntamento nazionale di Io Apro in programma per venerdì 15 gennaio promosso a Pesaro dal ristoratore Umberto Carriera che vedrebbe la riapertura serale dei ristoranti pur nel rispetto delle norme anti-covid. Non tutti sono d'accordo, l'unica cosa certa è che ad oggi i bilanci per gli operatori del settore sono tutt'altro che rosi. Noi rispettiamo la sua posizione ma non la condividiamo perché pensiamo che sia giusto rispettare le leggi anche se poi non vengono condivise a pieno quindi quando ci fanno lavorare noi lavoriamo al massimo e quando dobbiamo stare chiusi si sta chiusi. È normale che solo con gli asporti un'attività di ristorazione fa fatica alla lunga, mantenere quelle che sono le spese a pagare quello che normalmente bisogna pagare con un'attività aperta. La preoccupazione nostra è il fatto che qui dentro non lavoriamo solamente noi titolari ma altri ragazzi, famiglie che dipendono da questa attività come tutte le attività, ristorazione, bar e tutto quanto. Ormai abbiamo perso le speranze con questi colori, zone che non ci cambiano più niente ormai sappiamo che dobbiamo solo aspettare che loro ci dicono cosa dobbiamo fare e lo facciamo. Ci farebbe piacere saperlo un po' prima. E tra le nuove misure al vaglio del governo contenute nella bozza del DPCM in uscita per venerdì 15 gennaio c'è anche il divieto di asporto per i bar dopo le 18, una restrizione che peserà non poco sulle loro casse volta a contrastare la movida al di fuori dei locali. Beh ancora gli effetti dell'asporto evitato dopo le 18 non li abbiamo sentiti perché di solito si va al fine settimana un po' l'effetto grosso. Però insomma già siamo penalizzati a chiudere le 18 è già un grosso problema. Sembra che in questi giorni dovrebbero accreditare qualcosa. Speriamo e per il resto insomma andiamo avanti con le nostre forze come al solito. Nel frattempo i clienti continuano ad approfittare in questi giorni delle marche gialle e a gustarsi il caffè al bar che come confidano alcuni ha tutto un altro sapore. È piacevole perché sembra di rientrare nella normalità della vita per cui anche se finché non riusciremo a trovare una soluzione vivremo sempre questa altalena.